La riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è svolta oggi pomeriggio per l'intensificarsi dei furti che ci sono stati in provincia di Campobasso nelle ultime settimane. Il servizio di Tommaso Cherici. Case di città o di campagna, ma anche imprese, auto e mezzi agricoli, il campo di azione dei ladri in Molise sembra non conoscere confini. Una questione è quella del contrasto ai furti di cui si è tornati a parlare alla prefettura di Campobasso. Il Comitato sull'Ordine e la Sicurezza ha riunito nel pomeriggio dal prefetto Michela Lattarulo l'occasione per un confronto con sindaci del territorio e vertici delle forze armate per capire la reale entità del problema e mettere in campo le strategie per arginarlo. Non possiamo parlare di una crescita del fenomeno, ma di una sostanziale stabilità. Nonostante è necessario condividere l'approfondimento del fenomeno, al fine di trovare le risposte più adeguate. E' sicuramente importante rivolgere attenzione alla sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla segnalazione dei casi sospetti. Questa è nell'ottica della sicurezza partecipata che ormai ha preso piede sempre di più in questo ambito. Il lavoro delle forze dell'Ordine per intercettare le rotte dei ladri che spesso arrivano da fuori regione per mettere a segno i loro colpi. Non è una questione endogena, non è una questione relativa al territorio, derivante dal territorio, ma purtroppo di questi gruppi che si espandono, cercano di espandere la loro azione anche altrove. Rafforzare la presenza di pattuglie sui territori, investire nella videosorveglianza, alcune delle proposte emerse durante la riunione. Ci saranno nuovi arruolamenti da parte dei vari ministeri competenti e quindi sicuramente una parte del personale nuovo arruolato arriverà anche in Molise. Questo consentirà sicuramente un maggior passaggio delle pattuglie nei vari territori. Nei dati complessivi furti non sono mai a livello esperienziale in Molise, però questo ci sottrae dalla possibilità di essere ammessi ai finanziamenti sulla videosorveglianza. Dovremmo cambiare anche quei criteri perché anche la videosorveglianza è vero che non risolve il problema, ma può essere un buon deterrente.